Avvocato Felli, con il TTP, trattato commerciale tra i Stati Uniti e l'Unione Europea, potrebbe cambiare la regolamentazione in termini di marchi e brevetti. Come affrontate questa sfida? Cosa ne pensa? Dunque, è sicuramente una cosa che dovremmo affrontare come dato di fatto, perché ha una sfida e le sfide vanno raccolte. Ci potranno essere alcuni cambiamenti, penso che peraltro l'Europa possa dare il suo contributo nell'applicazione del trattato. Da parte nostra ci stiamo attrezzando con un gruppo di studio dedicato che comprende peraltro non solo la proprietà intellettuale e non solo nel settore alimentare, ma anche altre practice per avere un approccio multidisciplinare alla cosa dove la proprietà intellettuale è sicuramente il cuore, ma non solo. Grazie Avvocato, grazie mille.